Ciao, bentrovata sul mio canale, ciao da Stefano ovviamente che sono io. Il titolo del video di oggi è Perché ti manca il narcisista? Allora prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere ai like a questo video cosicché mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Questo argomento mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale che si chiama Silvia, che ovviamente saluto, ciao Silvia, che mi chiede ma com'è che il mio narcisista patologico mi manca pur trattandomi male pur essendo andato via senza una spiegazione, pur avendo già un'altra persona insomma perché manca un narcisista patologico? Il punto allora è questo qua, partiamo sempre dalla considerazione del fatto che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Detto questo, la motivazione può essere molteplice. Ti ripresenta che un narcisista patologico, per essere definito tale, è una persona che ha un disturbo narcisistico di personalità. È una patologia, è un disturbo di personalità, un disturbo mentale inserito all'interno del manuale diagnostico statistico. Le caratteristiche, come dico sempre, più importanti per riconoscere un narcisista patologico sono il senso di grandiosità, loro si sentono superiore a tutti, oppure se è un narcisista covert, lui si sente che tutti lo odiano, che tutte le sue ex lo hanno trattato male, che tutte le persone sono cattive. Queste sono le caratteristiche principali. Seconda cosa, sono estremamente invidiosi, estremamente falsi, estremamente godono nelle sfige altrui, quindi sono molto sadici, e ovviamente mancano di empatia, quindi non entrano nei sentimenti altrui, non entrano, non riescano a capire i punti di vista delle altre persone. Detto questo, perché ti manca un narcisista pur essendo stata lasciata, pur sul fatto che lui ti ha trattato molto male, il narcisista? Allora, tieni presente che la vittima di un narcisista rimane ancorata su ciò che era all'inizio. La vittima del narcisista è purtroppo scioccata del cambiamento che un narcisista patologico fa. All'inizio, nel love bombing, che significa bombardamento d'amore, cioè all'inizio della relazione, il narcisista patologico è dolce, carino, presente, passionale. Sembra la persona migliore del mondo. È tutta una recita. Una volta che la vittima è stata agganciata, cioè che è stata fatta innamorare, il narcisista cambia il suo atteggiamento in una maniera rapida e inconcepibile. Diventa cattivo, scostante, ti può offendere spesso e volentieri, sei acido, sarcastico, insomma, il peggio del peggio. Già da lì la vittima rimane scioccata. Poi, alla fine, il narcisista ti lascia, spesso e volentieri, o si fa lasciare, ma in generale lascia la preda, la vittima. In questo caso, lei è scioccata dal fatto come questa persona sia cambiata. Viene lasciata senza una spiegazione, quindi è estremamente confusa. E già da lì la vittima si trova in una situazione di difficoltà emotiva e mentale. Perché ti manca così tanto? Ti manca così tanto in maniera razionale? È impossibile che ti manchi, ma lo sai anche tu, però se ti senti vuota dentro. Questo vuoto è determinato dal fatto che il narcisista patologico ti ha drogate emotivamente all'inizio, facendosi passare per una bellissima persona. E poi, ovviamente, è cambiata e ti ha lasciato senza una spiegazione. Questo shock ti ha creato un vuoto interiore, che lo scambi per amore, ma in realtà è semplicemente droga emotiva, che una volta spurgata e fatta passare, vedrai che starai molto meglio. Quindi, perché ti manca? Un po' perché sei legata a ciò che era prima, cioè al love bombing. Un po' perché sei stata scioccata. E ovviamente hai molti pensieri. A volte c'è il senso di colpa, cioè tu potresti pensare, ma io ho sbagliato qualcosa, ma potevo far di più, anche perché il narcisista ha ribaltato le frittate e ti ha dato tutta la colpa a te. Anche se lui ha trovato un'altra donna o un altro uomo, è sempre colpa tua, secondo il narcisista. Questo ovviamente ti ha portato ad avere mille dubbi, quindi ancora più confusa e ancora più sola, proprio perché il narcisista patologico ti ha fatto terra bruciata attorno, quindi molte volte ti ha fatto chiudere con amici o parenti, quindi ti senti estremamente sola e abbandonata. Anche se non hai chiuso con amici o parenti, nessuno che ti capisce davvero. Infatti, se ti sei messo a vedere dei video come questo, come ho fatto io ai miei tempi, molto probabilmente ti senti non capita dalle altre persone, vuoi delle risposte. Se tu metti insieme queste quattro cose, ripeto, sei legata all'off bombing quando lui era carino e gentile, sei rimasta scioccata quando ti ha iniziato a trattare male e poi ti ha lasciato malamente, hai sensi di colpa ovunque perché non capisci se hai sbagliato oppure no perché il tuo ex ti ha dato tutte le colpe e ovviamente non ti senti capita, il tuo vuoto interiore è enorme, ci sono passato e so perfettamente cosa significa, è un vuoto importante, una depressione, ti senti depressa spesso e volentieri. Il punto è questo qua, non ti manca realmente lui o lei, non ti manca realmente il narcisista, ripeto, è la droga emotiva che il narcisista ti ha creato, è la bolla in cui il narcisista ti ha messo all'interno che ti fa sentire questo vuoto, ma se ci pensi razionalmente con la testa, una persona che ti tratta come ti ha trattato il narcisista patologico, non ti può mancare, punto, perché siamo tutti fatti per essere rispettati ed amati e rispettare ed amare, se una persona ti tratta male, razionalmente, non ti può mancare, se ti manca è semplicemente per la droga emotiva, tra virgolette, che ti ha iniettato, quindi una bolla di solitudine che senti, ma che non riguarda in senso stretto il narcisista patologico, ma il mondo che il narcisista patologico, attraverso le sue manipolazioni mentali, ti ha creato. Quindi, cosa ti consiglio? Ti consiglio di stare in no contact totale, stare il più fuori possibile, frequentare le persone che ti vogliono bene e se posso consigliare un percorso virtuoso con uno psicologo professionista, potrebbe aiutarti molto, questo è quello che ti posso dire, ma una cosa, di una cosa son certo, il narcisista patologico, un narcisista patologico, non ti può aiutare, non cambierà mai e se tornerà nella tua vita, o nella vita mia, o nella vita di tutti quanti, le distruggerà e basta, tutto qua. Stiamo uniti e leviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita, ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti patologici e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito, ciao da Stefano. Grazie. Grazie a tutti.